Sì, buongiorno, Francesca Vencacci, la Nazione. È una partita da vincere a tutti i costi, possiamo dire così. Beh sì, c'è poco da giudarci intorno, è una partita che dobbiamo vincere. Non ci possiamo permettere nessun tipo di dimorare riverenziale nei confronti comunque di una squadra forte, perché a noi serve un solo risultato, quindi butteremo il cuore oltre l'ostacolo. Giocheremo una partita che dobbiamo giocare, quindi ogni commento secondo me è superfluo, le parole a questo punto non servono a nulla. La partita con la Spal vi ha ridato morale, fiducia? Assolutamente sì, perché si è fatta una gran partita, si meritava di vincere. Però ecco, quello che rimane, rimane consapevolezza che abbiamo ritrovato lo smalto dei giorni migliori e quindi domani spingeremo come matti, perché non possiamo assolutamente far altro che cercare la vittoria. Ecco, adesso si rischia di essere ripetitivi in queste condizioni, però il concetto ormai lo so spesso è questo. Buongiorno, mister Carlo Forcini di Corriere dell'Umbria. Rispetto all'andata, come è cambiato il Cagliari da Liberani a Ranieri? E quindi che tipo di partita si aspetta domani sera? Grazie. Allora, intanto saluto con piacere il mister Ranieri, per il quale ho grande stima, grande considerazione, quindi ricambio i complimenti che lui mi ha fatto, che sono comunque da parte mia assolutamente ricambiati. E' un allenatore al quale io mi inchino, perché ha una carriera che parla da sola. Una squadra che comunque ha preso solidità, secondo me, il fatto che sia una squadra di caratura è scontato. Quindi è cambiato, secondo me, che ha una solidità, un equilibrio, diciamo così. Però, ripeto, io non voglio entrare troppo sull'avversario, perché l'ho detto prima, noi domani, a prescindere di chi abbiamo in fronte, dobbiamo buttare il cuore oltre l'ostacolo, senza guardare in faccia a nessuno, senza soprattutto avere troppi timori evidenziali. Perché se io parlo molto dell'avversario, mi tocca, per carità di Dio, squadra, come ho detto prima, di caratura, di qualità, tutte cose vere. Però più ne parlo, più enfatizzo un concetto che invece noi questa settimana lo abbiamo solo sfiorato, perché a prescindere di chi abbiamo in fronte, noi abbiamo portato i tre punti domani. Sì, buongiorno, mister Corrado, lo sito del messaggero. Al di là del fatto che, naturalmente, domani bisognerà vincere, non ci sono altre storie. Però, in generale, un'idea dei punti che potrebbero servire per o play-out o salvezza, se l'hai fatta a grandi linee, oppure si ragiona partita per partita? Secondo me bisognerà partita per partita, perché il Camerato ci ha dimostrato che c'è un grandissimo equilibrio, dove può succedere di tutto. E quindi, inutile stare, secondo me, più punti facciamo, meglio è. Di questo, è fuori discussione. Poi, appunto, abbiamo visto che ci sono le squadre che comunque nessuno vuole a nulla. Sia in coda che nella lotta della play-off, il Camerato è battagliatissimo. Quindi, la cosa che conta, come ho sempre detto, è che noi, che dobbiamo pensare a noi stessi, abbiamo ritrovato la migliore efficienza, la migliore condizione, che per noi è fondamentale. Noi sappiamo che abbiamo dei limiti, ci mancherebbe altro. Ma sappiamo anche, conosciamo bene anche le nostre risorse, perché quando andiamo a Manetta, tutti gli avversari fanno fatica con noi. E noi domani dobbiamo andare al massimo della nostra espressione di velocità per tutti i 90 minuti. Mister, quanto sarà importante contare su un pubblico caldo, partecipe, oggi, cioè domani soprattutto, poi anche la società si espressa anche in ottica Benevento, ma domani è fondamentale vedere un curi stile derby. Assolutamente, perché bene o male i ragazzi hanno bisogno di questa spinta, di questo calore, di questo affetto che comunque il pubblico può e secondo me stavolta deve trasmettere, perché comunque siamo agli scolci di un campionato difficile, però possiamo ancora farcela. Quindi ecco quello che conta è che comunque i giochi sono aperti. Poi, a prescindere dal fatto che è vero che siamo precipitati al secondo posto, però siamo a due punti di salvezza di rete, guardiamolo un po' tutte e due per farci la medaglia. Domenica eravamo a tre, oggi siamo a due, quindi tutto è aperto ancora. Se vogliamo abbiamo accorciato, è vero che una squadra ci è passata avanti, però dalla salvezza abbiamo accorciato. Proprio, Mister, in questo ricollegandomi al suo ultimo pensiero, appunto cosa ha pensato alla fine della giornata, dell'ultima giornata? Ma è che dura per tutti, perché non muola nessuno. Avete visto bene il evento, sotto i due goli ho rimontato col Parma, il cittadino era capareggiato a Bari, quindi le partite sono tutte uguali in Serie B, vanno tutte giocate. Olivieri ha dimostrato l'altro giorno di essere entrato bene in partita, gli chiedo come l'ha visto in questa settimana, può essere, l'ha già detto anche l'altra volta, però una carta in più, una carta importante. Per forza, lui è recuperato da un fortunio che lo ha tenuto per lungo tempo fuori e per noi è stata una perdita grave, come lo è stata di serio, come lo è dell'Orco, perché entriamo in quel contesto che comunque abbiamo avuto questa assenza. Però sta recuperato, adesso ce l'abbiamo, ma voglio però ripetere un concetto che deve essere un po' un light motive per domani, zero alibi. Dobbiamo andare, chi c'è c'è, chi non c'è, pazienza, noi dobbiamo andare in campo forte, giocare al massimo, non ci dobbiamo mettere alibi, né avversario, né fortuna, né sfortuna, tutti gli alibi domani vanno azzerati. Dobbiamo avere un chiodo fisso in testa e spingere, dare tutto fino all'ultimo secondo.